Ciao a tutti, sono Federico di Wow Nature, oggi ci troviamo a Carmignano di Brinta, a Bosco Limite e stiamo effettuando il monitoraggio a distanza di 10 anni dagli interventi, dall'impianto di questo bosco. Come vedete il bosco ormai si è affermato, è diventato un bosco vero e proprio, non soffre più della competizione delle specie erbacee. Il bosco ora sta bene, abbiamo fatto il monitoraggio, abbiamo rilevato i diametri, le altezze, il tipo di specie che hanno sopravvissuto e gli accrescimenti degli alberi e abbiamo rilevato un altissimo tasso di sopravvivenza e un ottimo stato di salute delle piante. Bosco Limite ad oggi genera numerosi servizi ecosistemici, tra cui l'aumento della biodiversità, come abbiamo potuto constatare anche dal monitoraggio, ci sono numerosi specie vegetali e animali presenti all'interno del bosco e sono in un ottimo stato di salute. Questo bosco inoltre ricarica la falda acquifera e offre numerose attività educative e turistiche. A 10 anni dall'impianto, dunque, ci riteniamo molto soddisfatti di come il bosco è cresciuto e continua a crescere, e sicuramente ha un elevatissimo potenziale naturalistico. Si tratta quindi di un oasi forestale all'interno della pianura parana. Venite a visitarlo.